Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa pre-gara di Bari Cremonese. Prego parola ad Antonio Guido del Corriere dello Sport. C'è poco da dire, mister. Conta solo vincere, contano i giocatori che vedono la porta e soprattutto qualcuno che abbia la giocata estemporanea. Sì, diciamo che al nostro percorso, soprattutto nelle ultime partite, è mancato solo il gol perché a livello di costruzione, a livello di pericolosità offensiva, a livello di situazioni create poi da poter trasformare in occasioni chiare o occasioni da gol, ne abbiamo avute. Quindi contro la Sampdoria abbiamo tirato 16 volte però non siamo riusciti a fare gol. Nell'altra partita a Venezia abbiamo tirato tanto e magari a volte anche in maniera sfortunata perché a volte è successo che abbiamo preso pali, traverse oppure parate dei portieri importanti. Abbiamo sbagliato a ridosso della porta magari la conclusione finale. Però questo c'è successo anche a Modena dove siamo arrivati lì nel primo e anche nel secondo tempo. Vuoi un po' per l'ultimo passaggio, vuoi un po' per la conclusione finale e non siamo riusciti a centrare la porta. Però questo è una cosa sulla quale lavoriamo tanto. Stiamo lavorando tanto anche sulle palle inattive perché sono motivo, l'abbiamo visto anche domenica, di lavorare perché ci possano portare qualche gol in più e quindi ci stiamo andando addosso su questa cosa e in più molto anche sulla fase offensiva. Quindi stiamo continuando a lavorare. Ovviamente nel calcio poi come spesso accade quando tu ti prepari, fai, magari concludi, arrivi lì, poi arriva la giornata che magari le cose ti girano un pochino meglio e magari con meno tiri fai più gol, questo è il calcio. Però dobbiamo insistere, insistere, crederci. La cosa positiva è che anche nonostante nelle ultime settimane a volte siamo passati in svantaggio su episodi un po' diciamo clamorosi perché anche domenica su questo tiro si è girato il nostro difensore e gli è battuta sul braccio. Rigore, per carità, non c'è stato niente e nulla da dire, da eccepire su questo. Però un episodio non proprio fortunato, però la squadra ha reagito, ha giocato, è andata a giocare là, è andata a costruire presupposti per pareggiare prima, poi c'è riuscita e poi ha avuto quattro situazioni importanti per poter far gol e vincere la partita, però non ci siamo riusciti. Due volte con Bellomo, una con un ragazzino, con Davide e l'altra l'abbiamo avuta con Aramo, un bel colpo di testa che ha scoperto il palo. Quindi sono situazioni, quindi la squadra è importante che ci creda, che abbia reazione, che abbia spirito giusto, continui a giocare, continui a credere di poter ribaltare anche le partite perché nel calcio si passa in vantaggio, a volte succede un episodio, sei in parità, devi sempre rimanere dentro la partita e andare a credere di poter far gol e andarci con quella cinicità che in queste ultime partite ci sta mancando. Con qualche gol in più, sicuramente per lo sviluppo delle gare che abbiamo fatto sarebbero arrivati quei 4-5 punti in più che la squadra meritava perché il gol poi premia e fa vedere tutta la partita e tutta la situazione, la partita stessa in un'altra ottica. Continuiamo a lavorarci perché quello è un nostro crucio su cui dobbiamo insistere molto perché poi il sale del calcio è quello, metti la palla dentro e ti arrivano anche i punti di conseguenza. Ministro, a proposito di gol, la salvezza del Bari non può non passare anche dalle reti di Puskas. Le chiedo dopo la bocciatura di Modena come l'ha visto in questi giorni, che segnali gli ha dato? Ma non è stata una bocciatura, io guardo il campo di partita in partita diciamo che lui è arrivato da noi dopo tanti giorni, diversi giorni che era con la nazionale, praticamente è arrivato tre giorni prima della partita. Quando ti ritorna un ragazzo che viene dalla nazionale magari non sai mai, ti può tornare bene, ti può tornare meno bene. È chiaro che nel lavoro di squadra, nel lavoro di quello che era il percorso, magari nel primo tempo non l'ho visto con il passo, magari ho la cosa giusta per poter andare a darci quella mano. E quindi ho fatto il cambio. Quelle sono situazioni particolari che capita. Vedo anche gli allenatori che quando tornano i giocatori alla nazionale li fanno giocare sempre, altri magari non li fanno giocare. Questa è una scelta che tu non puoi sapere prima, ma soprattutto nella situazione in cui siamo. Non è una bocciatura assolutamente perché ci aspettiamo anche i gol, anche da Puskas, perché ovviamente sappiamo come siamo messi lì davanti. Mi ha fatto piacere che il ragazzino è entrato con il piglio giusto, con lo spirito giusto. Peccato che stava un conto è fare 45-70 minuti con la primavera, un conto puoi farli con la prima squadra, dove i ritmi sono sempre sollecitati di alto ritmo. Infatti un po' negli ultimi minuti l'avevo voluto tenere, se non succedeva quell'episodio di Maita, che è uscito lui, che è un ragazzo che ci dà anche solidità in mezzo al campo, l'avrei tenuto con i tre davanti, però non è stato possibile e quindi ho cambiato con Davide, che sta crescendo, non aveva più di quello che poteva darci come minutaggio, però vediamo ora nelle prossime gare quello che sarà lo sviluppo di volta in volta. Buongiorno mister, purtroppo il tempo a disposizione è poco, va bene, giustamente ovviamente ci mancherebbe altro lavoro, però non crede che in questo finale la parte mentale sia quella che possa darle la spinta per arrivare al traguardo, cioè la preoccupa, lei vede una squadra preoccupata, insomma anche... Ho capito la domanda, no, non la vedo così, qualche settimana fa sì, ora devo dirti che dopo la partita con la Sandonia, che abbiamo fatto con coraggio, con spirito, con mentalità, e abbiamo creato tanto, abbiamo rischiato niente, quasi nulla, solo con la squadra tutta dietro nella palla, un peccato vero con una punizione a centro campo, aver preso quel gol, però su tutto l'aspetto dell'atteggiamento la squadra ha sempre spinto, combattuto, aggredito, è stata compatta, attenta, concentrata, e anche a Modena ha fatto questo tipo di partita. A Modena, se alla fine della partita sono stati fischi per il Modena, è probabilmente anche perché il Bari non è andato a fare una passeggiata lì, è andato lì, ha trovato una squadra dall'altra parte organizzata, compatta, aggressiva, che era sempre pronta a ripartire, a dar noia al Modena, e questo ha messo in apprezzione il pubblico di casa, e non a caso gli abbiamo fatto sbagliare tante palle, proprio perché siamo stati molto sotto questo aspetto anche aggressivi, e abbiamo giocato, poi quando c'era da giocare, nel primo tempo con qualche errore più tecnico, poi nello sviluppo della partita i ragazzi l'hanno fatto bene, e quindi abbiamo creato i presupposti per andare a fare gol. Quello era quello che doveva fare il Bari a Modena, gli è mancato il gol per poter andare a ribaltare la partita, nonostante un episodio sul rigore, diciamo così, particolare, sfortunato. Però non ho visto una squadra che molla, che sbraga, non va a reagire, a pareggiare e a costruire quattro palle, cinque palle, insomma opportunità per poter andare a ribaltare il risultato. Poi, ripeto, nel computo della partita è chiaro che ti manca qualche golletto nelle ultime settimane, nelle ultime quattro, cinque partite, dove sicuramente la squadra, per quello che ha prodotto, ci siamo arrivati con i difensori sui piazzati, ci siamo arrivati con le mezzali, ci siamo arrivati con il trequartista, ci siamo arrivati con le punte davanti alla porta, ma la palla non è voluta entrare. Quindi questo magari nel calcio può capitare, può succedere, c'è un periodo in cui le cose non raccogli quanto meriti per quello che produci, però dobbiamo continuare a crederci, a farlo con lo spirito giusto. In questo la squadra vedo che lo sta mettendo in campo, perché altrimenti, insomma, anche i nostri avversari domenica non sarebbero usciti dal campo con i fischi di tutto lo stadio per la prestazione fatta, ma vuol dire che dall'altra parte c'era una squadra che ha dato filo da torcere, sia sotto l'aspetto dell'intensità, della compattezza, dell'aggressività e poi nella pericolosità, anche quando andava a rubare palla e andava a creare situazioni importanti davanti. E quindi noi dobbiamo continuare su questa strada nella convinzione che dobbiamo far girare la ruota dalla nostra, perché non ce la gira nessuno. Sono d'accordo in questo con te, quindi sta sempre la squadra a noi a far girare questa ruota, essere sempre molto attenti nella fase difensiva e più pratici, più cinici, più concreti, più determinati, tutte le frasi che si possono magari mettere dentro per far gol e mettere sta bene e sta palla dentro, perché poi è quella che ti fa fare il salto di qualità. Prego, Franco Cirici. Mister, ci sono delle cose che gli allenatori possono dire e delle altre che non dicono per una questione di vita, però dimostrano con i fatti. Lei a Modena ha fatto una cosa, forse la prima cosa veramente rivoluzionaria della sua gestione barese. Io l'ho interpretata così, un segnale non forte, di più, perché se tu metti alla fine del primo tempo Colangiuli, che non ha mai giocato nel Bari, e Aramu, che non giocava da tre mesi, dai un segnale forte alla squadra. La risposta è stata, secondo me, efficace, poteva andarci meglio, però è stata una risposta forte, importante anche della squadra. È un nuovo corso che comincia, e in questo è la domanda, è in questo nuovo corso. Siccome il Bari ha bisogno, come il pane, anche dei gol di Sibilli, perché è il nostro bomber, ragazzi, dobbiamo ritrovarlo, e a Modena non c'era. Mi dica cosa ne pensa. Beh, hai detto tutto. Diciamo quello che c'è da dire. L'allenatore guarda il campo, guarda le situazioni che si verificano di volta in volta, un po' quello che ho detto prima. A me è capitato altre volte. Quando ho fatto esordire giovani di 17 anni, mi è capitato con Icardi, mi è capitato con Belotti a Palermo, che veniva dalla Serie C, mi è capitato con Raspadori, che era nella primavera del Sassuolo, e faceva l'esterno destro, l'ho spostato a fare la prima punta davanti. Quindi mi è capitato anche con altri giocatori nella mia storia, perché in Europa, a 18 anni, 19 anni, giocano tutti. Qui dovremmo aprire una parentesi e chiudere una parentesi, a livello generale, magari l'affronteremo un'altra volta, perché ho il mio pensiero del perché questo magari da noi può non accadere, però ne parleremo un'altra volta quando ci avremo modo di parlarne con tranquillità di questo. E quindi noi dobbiamo abituarci che questo possa accadere. Il ragazzo si era allenato con noi da 10 giorni, 12 giorni, mi ha dato l'impressione che quando facevamo i movimenti, recepiva, ed era un ragazzo che aveva delle caratteristiche, di vivacità, anche di buona, discreta, buona tecnica individuale, purtroppo non siamo stati premiati, perché lui ha avuto una palla, ha fatto una grandissima giocata in area di rigore, ha rullato la palla con la suola, ha calciato, gli ha rimbalzato, gli ha diserciato un po' la palla e l'ha calciata alta. Però avrebbe avuto anche l'opportunità di farlo. Ha fatto un'altra giocata bellissima sull'imbucata da Ramo, che lui a Ramo non se l'aspettava, ma proprio perché quella era una giocata da giocatore che magari ha fatto, che ha fatto in quel momento, non è stata premiata, però è stato sempre vivace, sempre partecipativo, sempre fastidioso. Quello è lo spirito che voglio da chi entra. Lo stessa cosa di Ramo. È chiaro che non avrà i 90 minuti, i 70 minuti, perché è stato fuori tre mesi, fuori dalla squadra, e quindi fuori Rosa. E quindi però in questo senso crediamo molto in loro, in tutti i ragazzi, chi è dentro e chi è fuori, e quando entrano dentro devono andare anche lo stesso bell'uomo, che è entrato molto bene, e quindi ha creato i presupposti due volte, sia ha messo una bella palla a gol per a Ramo, sia con due conclusioni importanti in porta. E quindi chi entra, voglio questo spirito. E ma, guarda, quello che ho visto, che forse non si notano a volte dei dettagli, ma sono importanti, dopo aver fatto gol noi, mi ha emozionato la squadra come si è andata a bracciare, la panchina che è saltata fuori, tutti in casa, sembrava che avevamo vinto la Coppa Campioni, ma proprio per aver ritrovato il gol, che per ogni squadra è la molla che fa scattare quella liberazione dentro che tu hai, perché poi ci provi una partita e non ti va dentro, ci provi l'altra partita, trovi l'altra traversa, trovi l'altra partita in rigore, trovi l'altra partita davanti alla porta e para il portiere, o sbagli, arrivi lì, sbagli l'ultimo passaggio. È chiaro che per una squadra sono cose che poi piano piano ti danno qualche cosa anche nella testa, ma la dimostrazione che la squadra voglia, voglia fare, ci sia sul piano caratteriale è l'abbraccio che c'è stato per il pareggio di Pucino, che abbiamo fatto. Su Sibilli, Beppe ha avuto una giornata un po' particolare, non possono avere tutti i giocatori, ma questo fa parte del calcio, poi la sostituzione è stata dettata anche dall'ammunizione, aveva avuto qualche discussione con qualcuno della panchina avversaria e quindi si era messo un po' a picicciare un po' lì in mezzo al campo, non ho voluto rischiare soprattutto perché insomma un intervento un po' anche in spaccata, un intervento un po' così, poteva rischiare di comprometterci la partita e quindi ho preferito mettere i ragazzi che erano gli altri ragazzi, quindi non c'è problema, quindi Beppe è un giocatore per noi importante e dobbiamo continuare a lavorare sopra affinché tutti riescono a portare il loro mattone alla costruzione finale della casa. Prego, Flavio Salato. Mister, buongiorno, arriva una cremonese riduce da una sconfitta inaspettata in casa contro la Feralpi, la seconda consecutiva. Che tipo di avversario si aspetta? Beh, certo, quando sei da fronte di una squadra che ha perso, soprattutto è una squadra di grande valore, personalità, tecnica, nel suo complesso, chi è dentro il campo e chi è fuori dalla panchina, è chiaro che non ti puoi aspettare una squadra che verrà qui un po' sotto tono, sul piano dell'attenzione, della concentrazione, perché quando succedono queste cose, in genere funziona così. però noi dobbiamo guardare, rispettiamo molto l'avversario, che è una squadra forte, tecnica, organizzata, la Stroop ha fatto un grande lavoro da quando è arrivato, quindi dobbiamo rispettare questa squadra, sicuramente sotto tutti gli aspetti, però poi dobbiamo fare noi una grande partita, perché questa è una squadra che sul piano tecnico è brava a giocare, ha l'individualità, ha l'uno contro uno, cose che diceva prima, no? Il collega, insomma, è una squadra che ha grandi valori tecnici ed è capace di scardinare una squadra, una difesa, un centrocampo con una superiorità numerica e quindi dovremo stare molto attenti al particolare, essere bravissimi nelle letture, essere bravissimi, compatti, intensi e aggressivi per poter poi noi andare a fare quello che ovviamente abbiamo preparato e anche noi essere efficaci davanti con quelle cose che stiamo mettendo in campo e continueremo ad allenarci nelle ultime ore. Prego Davide Abrescia. Ben ritrovato, Mister Vado, su due singoli, uno è Dio, come l'ha visto dopo i dieci minuti in questi giorni di allenamento se ha avuto delle risposte a livello fisico e se può aumentare magari il minutaggio nella prossima e se Aramo invece è pronto ormai a giocare dall'inizio? Sì, guarda, Dio è un discorso sempre da monitorare, adesso siamo al secondo giorno dopo la partita, al terzo giorno, oggi, facciamo allenamento e lo faremo anche domani mattina, proprio per arrivare alla gara e valutare tutti, poi faremo il punto con lo staff medico, farò il punto e con gli diretti interessati nello specifico per capire sia dell'uno che dell'altro se le cose come stanno procedendo e in che maniera possono darci e fino a che minutaggio possono darci la disponibilità sia l'uno che l'altro e quindi poi di conseguenza si valuterà e si deciderà. Erano uscito? Sì, mister, due domande. La prima, rispetto alle statistiche, lei è molto attento, abbiamo visto il cambio di modulo, a Modena le aspettative dei gol sulla base dei tiri creati 0.36, un netto passo indietro rispetto alle ultime gare. Come se lo spiega e se sta pensando a un nuovo ritorno al passato e per quanto riguarda Maiello, l'anno scorso si parlava di un Bari con Maiello e di un Bari senza Maiello. È pronto per fare una partita e quindi magari darle ulteriori soluzioni al centrocampo mettendo per esempio Benali anche nel suo ruolo naturale. Allora, se vi ricordate quando è stato cambiato o modificato qualcosa era per far sì che vedi, ci sono dei moduli il 4.3.1.2 nello specifico è un modulo che ti porta alle mezze ali a fare un lavoro in fuori nelle scalate nell'occupazione degli spazi a livello tattico però poi quando dopo il dispendio energetico che tu hai in questa maniera ti consente meno di andare a attaccare la porta con l'altro modulo perché avevamo variato se vi ricordate avevo spiegato questa cosa ora noi qualche golletto in più dobbiamo alzare un po' le percentuali è chiaro che ci stiamo lavorando anche con il 4.3.1.2 ad alzare ancora di più a essere più efficaci anche con gli interni di centrocampo per accompagnare l'azione e andare dentro però con l'altra situazione è chiaro che portavamo più uomini e più presenza nell'area avversaria nella metacampa avversaria quando andavamo soprattutto sugli esterni e questa è una valutazione che avevamo fatto poi devi capire anche quelle che sono un po' no? le caratteristiche della squadra un po' quello che che i giocatori magari sanno che possono portare può portare dei vantaggi degli svantaggi ma stiamo lavorando su tutte e due le situazioni perché dobbiamo essere bravi a interpretarle tutte e due perché sia nell'una che nell'altra dobbiamo essere più efficaci e quindi dobbiamo necessariamente essere anche imprevedibili sfruttare questo fatto di avere due soluzioni tattiche per cercare di avere qualche freccia più all'arco sia dall'inizio che durante la partita scusami è su Maiello no ma Raffaele è un ragazzo che sta sempre meglio settimana dopo settimana in questo momento abbiamo è chiaro Benali che sta facendo un ottimo vive un ottimo momento di condizione di forma sta giocando lì e in mezzo al campo abbiamo bisogno giocando appunto in questa maniera qui sia in una che nell'altra abbiamo bisogno di interni di centrocampo con gamba lunga per arrivare in area avversaria proprio per quel motivo qui più di possesso di inserimento di gamba lunga per andare proprio a ricercare questo fatto di occupare l'area nella fase offensiva e quindi magari in questo momento preferisco non cambiare questo discorso per un discorso prettamente tattico ci dà magari un po' più di solidità in mezzo al campo e nello stesso tempo quando devi stai andando ad attaccare la porta avversaria all'interno di centrocampo hanno una corsa diversa rispetto se dovessi mettere Benali a fare la mezzala è normale se a Benali lo fai correre è come io quando giocavo mi ci rivedo un po' con Benali e Maielo sono due che mi somigliavano quando giocavo davanti alla difesa era un discorso se mi facevano giocare a mezzala la mia corsa non era quella di un interno di centrocampo che poteva avere una gamba una fluidità di corsa una gamba di un altro tipo come fisicità e quindi in questo momento la scelta è determinata anche dal fatto che Benali sta facendo molto bene però con la Sampdoria Raffaele è entrato ha fatto gli ultimi 20 minuti quindi di volta in volta valutiamo la partita e poi vediamo arriva Marco Iusco mister nel corso di questa conferenza prima stava parlando dell'importanza anche di chi subentra prima ha citato Belluomo con uno spirito importante io invece le chiedo di Pucino che ha giocato molto bene ha segnato se è candidato ovviamente anche a essere riconfermato come titolare anche se Dorval è tornato sì ripeto stiamo valutando questo però Raffaele ha fatto una buona gara quindi non ci sono problemi insomma poi anche quando recuperi un calciatore che viene da 4 giorni di 3 giorni di influenza è chiaro poi devi valutare tutto come sta ripeto faremo le valutazioni dopo l'allenamento di oggi soprattutto domani mattina perché quando giochi dopo 4 giorni devi valutare bene i recuperi di tutti i ragazzi chi è un po' più stanco chi è meno stanco e quindi in questo entrerà anche questa cosa qui oltre il fatto dell'influenza ovviamente di Dorval prego Claudio Mela buongiorno mister tornando a Colangiulli io l'ho seguito un po' da inizio anno lui giocava Ala alla destra poi trequartista addirittura ti stoppo subito anche Belotti giocava Ala all'Albinoleffe anche Raspadori giocava in primavera esterno di destra poi si è trasformato da attaccante anche Chiesa giocava esterno di destra poi a Fiorentina l'ho messo a fare la punta e a Riquentri giocava da attaccante e con l'Europeo ci ha fatto vincere gli europei con l'Italia dei Mancini perché ha giocato da attaccante i giocatori contano le caratteristiche è quello che vuoi da loro e che puoi fare lui è un ragazzo che può interpretare tutte e due le situazioni e può essere anche un attaccante velenoso davanti perché è rapido svelto veloce poi ha una caratteristica diversa se ti aspetti l'attaccante alla Toni facciamo qualche esempio non è lui però se ti aspetti l'attaccante alla Montella è lui quindi tutti i ruoli e le caratteristiche degli attaccanti sono poi per quello che tu vuoi sviluppare poi il gioco è normale che devi giocare più palla a terra rispetto alla palla alta cambia un po' la caratteristica del modo di fraseggiare di giocare però devi andarla a ricercare sulla caratteristica del tuo attaccante e lui può fare sia quello che quell'altro bene sì cioè io volevo chiedere proprio questo lei il fatto che l'abbia messo centro avanti è la cosa che a me mi ha sorpreso sinceramente è una traccia questa da cui vi partive oppure è stata diciamo contingentata dal fatto che Dio avesse dieci minuti che Puskas non c'era che Nasti non c'era è un ragazzo che ho preso in considerazione non metto dentro uno tanto per metterlo è un ragazzo che sicuramente è con noi si lavora lavora con noi certo Nasti aveva due giornali di squalifica tutto quanto e quindi ha fatto sì che noi portassimo sopra anche un altro ragazzo che però durante le settimane mi ha dato una buona impressione ci ho lavorato sopra ci abbiamo lavorato sopra proprio per far sì che lui possa essere velenoso con le sue caratteristiche prego Raffaele Di Girolo buongiorno mister volevo collegarmi alla domanda del collega Ruscito perché guardando i dati sulla fase di costruzione del Bari e sul modo in cui i palloni arrivano in avanti si nota che i terzini sono spesso coinvolti nella fase di costruzione e le palle principali che arrivano agli attaccanti sono le palle dirette dei terzini ma questo implica bypassare il centrocampo come si lavora su questo anche perché nelle ultime partite poi la mia sensazione è che si sia creata una situazione in cui gli attaccanti arrivano palloni in momenti in cui loro sono isolati e quindi faticano a costruire con il resto dei compagni sì in questo ovviamente ci stiamo lavorando ancora però con la Sampdoria l'abbia fatto meglio contro magari contro il Modena a volte abbiamo forzato questa giocata invece dovevamo giocare di più con il centrocampista in mezzo al campo però queste sono cose che verifichiamo dopo la partita le prepariamo prima però a volte quando magari i ragazzi sono in campo a volte la lettura deve essere talmente veloce talmente rapida e magari in una situazione di aggressione dell'avversario magari la lettura di saper giocare a corto piuttosto che lungo diventa un pochino un po' più facile quella di mettere la palla là invece dobbiamo essere bravi a saper leggere la situazione giocare e sviluppare per quelli che sono i movimenti che prepariamo durante la settimana quindi sono solo delle cose da correggere da migliorare detto questo però è chiaro che poi ripeto contano le caratteristiche anche nello smarcamento degli attaccanti coi tempi giusti e in questo ci abbiamo lavorato in questi giorni perché dobbiamo anche lì c'è modo di poter migliorare perché dipende a volte anche come ti smarchi come attaccante per poter ricevere la palla giusta il collega mi pare Guido parlava di numeri individuali la ricerca anche da parte del giocatore santo e Dio tu puoi preparare la partita tutta la settimana gli schemi però il giocatore che è giocatore ti inventa anche il numero aver aspettato non dico che noi ne abbiamo visti molti diciamo che ne abbiamo visti pochissimi quest'anno anche quando lei non c'era ma aver aspettato la trentunesima giornata che un ragazzino di vent'anni si inventa un numero in area di rigore o no stavo sbagliando dico è il primo che vedo io dopo tanto tempo è un esempio per gli altri anche ragazzi tentate provate perché noi le partite le vinciamo anche col vostro sbulto o no cioè il ragazzino che dà l'esempio al grande quindi si stanno ribaltando le cose qui una cosa le devo chiedere però mister lei ha il dovere di portarli avanti tutti quei pochi che abbiamo ha il dovere di portarli avanti tutti ma noi quanto tempo mediamente dobbiamo ancora aspettare per vedere un giocatore che no lascia sta Dio uno che è arrivato a gennaio e che lei sta tentando di recuperare piano piano gli ha dato anche 90 minuti l'ultima volta è inutile fare nomi ma quanto dobbiamo aspettarlo ancora e lei lo deve aspettare sì beh sai ovviamente avendo 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 davanti fino all'altro giorno ma anche adesso non molte soluzioni proprio per gli infortuni che abbiamo avuto no perché poi ci sono stati ragazzi che sono stati fuori vuoi per un motivo vuoi per l'altro Diab è stato fuori Aramo è stato fuori cosa come si chiama insomma lo stesso Menez sembrava che poteva rientrare poi è stato fuori quindi davanti siamo stati un po' per tutte queste problematiche siamo stati corti corti ma lui non è lui però è un ragazzo che sta un ragazzo guarda il calcio d'angolo domenica faccio un esempio no noi prepariamo i piazzati l'ha letto giusto è forse uno dei giocatori più intelligenti senza offendere l'altro ci mancherebbe no ma è un ragazzo che sta sveglio che quando vede una cosa sente una cosa in campo è un giocatore che sembra magari a volte può sbagliare qualcosina a livello tecnico però sul piano dinamico sul piano dell'arrivo sul piano dell'arrivo ad attaccare la porta è uno di quelli che ti arriva è uno di quelli che può fare sicuramente anche in questo senso meglio però è un ragazzo intelligente è un ragazzo che quando dice una cosa le letture ce l'ha e le riconosce domenica sullo schema di piazzato è quello che l'ha letto meglio di tutti perché l'ha fatto perché poi si arriva un altro sulla palla e batte evanescente quel tiro lo schema non riesce quello che avevamo preparato il giorno prima e quindi lui è un ragazzo che può dare sicuramente di più però è un ragazzo che lo trovi dentro la partita lo trovi per il passo per la cosa per quelle che sono le sue caratteristiche e vedo piano piano anche in crescita sta tornando anche Ejumà che ha avuto un momento un po' di flessione però sta tornando un po' è un altro da cui ci possiamo ci dobbiamo aspettare qualcosa a Campora se non dovesse andare oggi male è un altro ragazzo che sta rientrando nella problematica che ha avuto e quindi stiamo cercando di recuperare tutti gli effettivi proprio per avere qualche freccia in più ringraziamo mister Iachini l'appuntamento è per domani sera a voi grazie a tutti